Che sono queste? Questo perché appunto dobbiamo riuscire ad aprire un dialogo con i filopalestinesi, può esistere il dissenso, non c'è nessun problema, ma almeno i presupposti devono essere un minimo di terreno in comune, ci deve essere. Allora, le domande che io ho fatto riguardano tre fasi della realtà, che sono prima dell'occupazione della Palestina, durante l'occupazione della Palestina e ad oggi, quindi nell'attualità, in epoca moderna. Sono tutte per filopalestinesi in generale, tranne le ultime due a cui tengo tantissimo, che sono per musulmani filopalestinesi, vi prego rispondetemi, grazie infinite. Allora, iniziamo a leggerle. Domande che riguardano la fase precedente all'occupazione della Palestina. Quando fu fondata la nazione della Palestina? Chi fondò la Palestina? Qual era l'inno nazionale della Palestina? Quali erano i confini della Palestina? Qual era la capitale della Palestina? Qual era la moneta nazionale palestinese? Qual era la sede del governo palestinese? Su cosa si basava l'economia della Palestina? Che tipo di governo c'era in Palestina prima dell'occupazione? Una monarchia, una dittatura, una democrazia? Mi menzionate per favore dieci nomi di palestinesi famosi prima di Arafat? Anche scrittori, poeti, giornalisti, qualsiasi cosa vi venga in mente. Dieci palestinesi famosi prima di Arafat. Perché il Consiglio Supremo Islamico nel 1925 scriveva così? Nel 1925 il Consiglio Supremo Islamico ha scritto una guida per i musulmani che per motivi turistici o per motivi religiosi si sarebbero recati al Monte del Tempio. Il sito archeologico, sito storico, religioso, che oggi viene anche chiamato dai telegiornali, non so se ci avete fatto caso, la spianata delle moschee. Quel sito si chiama Monte del Tempio. In arabo questo sito si rende con l'espressione Haram al-Sharif. Nel 1925 il Consiglio Supremo Islamico per i musulmani che intendono recarsi a Monte del Tempio, quindi Haram al-Sharif, scrive così. Il sito è uno dei più antichi del mondo. La sua santità arriva dai tempi più antichi, forse preistorici. La sua identità, insieme al sito del Tempio di Salomone, è fuori discussione. Questo, anche questo, è il luogo, secondo la credenza universale, in cui Davide ha costruito un altare per il Signore e ha fatto delle offerte di pace. Ma lo scopo di questa guida è trattare il sito alla luce dell'interesse dei visitatori musulmani. Per i musulmani il punto di partenza è l'anno 637 d.C. In quell'anno il calif Omar occupò Gerusalemme e una delle sue prime azioni fu ricostruire il sito, che era già diventato sacro agli occhi dei musulmani, come luogo verso cui Maometto fu miracolosamente trasportato una notte. Il sito era abbandonato da tempo. Il califo e i suoi 4.000 musulmani trovarono desolazione e abbandono. C'erano le mure in rovina dei periodi romano e erodiano. I resti di una precedente basilica, probabilmente sull'attuale sito di Al-Aqsa, e la cupola a spoglia. Eppure da questa cupola Maometto, secondo la tradizione, salì in cielo col suo destriero. Perciò il califo ordinò di costruire qui una moschea, talvolta chiamata anche Moschea di Omar, talvolta chiamata la cupola della roccia. Ecco le domande che riguardano la fase in cui l'occupazione della Palestina è già avvenuta. In che anno la Palestina è stata occupata? Con quale mezzo di trasporto sono arrivati gli ebrei e da dove arrivavano? Come si chiamava il generale dell'esercito degli ebrei che ha invaso e che ha guidato l'occupazione della Palestina? Quando gli ebrei hanno invaso e occupato la Palestina, perché l'esercito palestinese non è intervenuto? Perché i palestinesi hanno sempre rifiutato gli accordi di pace e l'assoluzione a due stati? La striscia di Gaza è stata sotto il controllo dell'Egitto dall'anno 49 all'anno 67. Perché i palestinesi non hanno chiesto all'Egitto di ridare loro indietro le loro terre palestinesi? E perché i palestinesi non hanno mai fatto attentati terroristici contro l'Egitto per riavere le loro terre palestinesi? La Cisgiordania è stata sotto il controllo della Giordania dal 48 al 67. Perché i palestinesi non hanno mai chiesto alla Giordania di ridare loro le loro terre palestinesi? E perché non hanno mai commesso attentati terroristici contro la Giordania per riavere le proprie terre palestinesi? Perché esiste un legame fra il KGB e la Palestina? Secondo alcune ricerche storiche, ma soprattutto secondo le testimonianze provenienti da alcuni ex agenti dell'URSS, dei servizi segreti dell'URSS e quindi del KGB, la causa palestinese sarebbe stata completamente inventata dal KGB, al fine di allineare gli arabi, ma più in generale i musulmani, al blocco sovietico da contrapporre ovviamente all'Occidente e all'America. Le tattiche per fare questo sarebbero state alcune tattiche ben precise. La prima, sfruttare l'antisemitismo islamico già ampiamente presente nei testi ufficiali dell'Islam. La seconda sarebbe stata prendere il nipote di Al-Husseini. Al-Husseini fu il gran mufti di Gerusalemme, che aveva ampiamente, era il fan numero uno di Adolf Hitler durante l'Olocausto. Una delle tattiche del KGB sarebbe stata quella di prendere suo nipote, che è questa persona, togliergli la parte del cognome che diceva Al-Husseini e tenere solo la parte del cognome che diceva Arafat. Una tattica seguente sarebbe stata quella di distruggere completamente i documenti della nascita del signor Arafat, che sarebbe nato in Egitto, e farlo nascere improvvisamente a Gerusalemme. Per questo motivo il KGB come tattica avrebbe utilizzato tutto questo per far nascere il primo, per proclamare il primo palestinese al mondo. In seguito il KGB avrebbe fatto tradurre una quantità infinita di copie di traduzioni in arabo del testo i protocolli degli avi di Sion, questo sempre per fomentare l'antisemitismo. Un'altra tattica sarebbe stata la ripetizione ossessiva della frase che gli americani, gli Stati Uniti e Israele sono fascisti, sionisti, imperialisti e assoldati da ricchi ebrei. In seguito, dal 1965 in poi, secondo queste fonti, il KGB avrebbe insistito affinché l'ONU potesse emanare una risoluzione. Il testo della risoluzione avrebbe dovuto essere una condanna del sionismo, che sarebbe stato definito come una forma di colonialismo e di razzismo. Un decennio dopo l'ONU fa comparire questa risoluzione. Per quanto riguarda il presente, le domande sono queste. Se Israele porta avanti il genocidio dei palestinesi da decenni, perché ci sono ancora tantissimi palestinesi in vita? Se Israele è razzista, nazista e uccide i palestinesi in maniera indiscriminata solo perché sono palestinesi, e quindi i palestinesi sono fortemente a rischio, perché i palestinesi non vanno via? Perché ci sono due milioni di arabi che sono cittadini dello Stato di Israele, se Israele è uno Stato di apartheid, che discrimina, che è nazista e che è razzista? Mi menzionate gentilmente dieci Stati islamici in cui i cittadini possono esercitare serenamente il proprio diritto di voto, come si vede in queste immagini che sono state scattate all'interno dello Stato ebraico di Israele. Israele quindi discrimina gli arabi, perché esistono dei partiti arabi alla Knesset? La Knesset si chiama Knesset, è praticamente il Parlamento dello Stato di Israele. Questi partiti arabi possono essere votati da altri arabi, da altri musulmani che sono cittadini di Israele. Mi menzionate per favore un partito democratico palestinese che non abbia mai fatto attentati terroristici contro Israele? I palestinesi sono sempre le vittime. Le vittime normalmente di una grande strage provano moltissima empatia, anzi sono i primi ad allinearsi nei confronti delle vittime di un'altra grande strage. Una delle più grandi stragi che abbiamo visto in epoca moderna è stata proprio l'11 settembre a New York. Se i palestinesi sono sempre le vittime e se i palestinesi quindi si allineano in maniera automatica e spontanea ed empatizzano con le vittime di altre grandi tragedie, perché hanno reagito così quando gli è stato detto loro che Al-Qaeda aveva attaccato le Torri Gemelle? Al-Qaeda. 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mi potreste menzionare dei cognomi tipici palestinesi? Questa per chi non la sapesse, per chi non sapesse l'araba è facilissima, nel senso che nei cognomi in lingua araba ci sono a volte dei cognomi che determinano o lasciano intendere la provenienza etnica o geografica di una famiglia o magari dei suoi discendenti. Ad esempio al-Masri vuol dire coloro che provengono o provenivano dall'Egitto, perché Massar significa, l'Egitto si dice Massar in arabo. Al-Kurdi sono persone di discendenza, di provenienza etnica kurda. Al-Baghdadi significa colui che viene da Baghdad. Al-Zarqawi, colui che viene da Zarqa, eccetera. Mi ho menzionato delle persone che di cognomi si chiamano Al-Filistin, perché in arabo si dice Filistin, nel senso che la P di Palestina in lingua araba non esiste. Se Israele discrimina in uno stato di apartheid, è razzista, eccetera, perché quando c'è stato il terremoto in Siria e in Iraq Israele è stata la prima nazione ad aver mandato degli aiuti fondamentali e determinanti proprio alle vittime del terremoto in Siria e in Turchia? Sono stati i primi a partire. Gaza è una prigione a cielo aperto. I bambini sono depressi, non hanno cure, non hanno cibo, pensano al suicidio perché Israele li ha chiusi lì dentro e non trovano rifugio neanche quando piovono missili. Perché facendo un esperimento su Google Maps i risultati sono questi? Questi sono i risultati di un esperimento che ho voluto fare. Per chi fosse interessato ci facciamo una passeggiatina all'interno della striscia di Gaza utilizzando uno strumento neutrale e anche molto basico come Google Maps. e non troviamo tracce di prigioni a cielo aperto. Perché esiste un filone che si chiama Palliwood? È proprio un filone fotografico e videografico che nasce dall'unione delle due parole Palestina e Hollywood. Secondo questo filone fotografico e videografico ben preciso esistono dei momenti in cui i palestinesi inscenano di proposito delle scene false per produrre delle fotografie false, dei video falsi che dovrebbero confermare il fatto che Israele è molto violenta mentre loro sono sempre le vittime. In questi video, buona passeggiata su Google, se ne vedono di tutti i colori una delle più frequenti è che ci siano i bambini coperti di polvere, coperti di sangue vengono come fossero morti, vengono fotografati e poi il bambino apre gli occhi in un altro video ancora ed è lo stesso bambino impolverato, insanguinato che viene pulito dai genitori, dagli adulti e finiscono così questi video. Oppure ci sono altri video in cui magari una persona anziana viene trasportata come se fosse su una barella supponendo che dietro Israele stia facendo qualcosa di molto violento questa persona, fanno i video in cui corrono e poi questa persona a un certo punto quando il video principale finisce rimane un'altra telecamera accesa e quella telecamera accesa inquadra magari la persona anziana che si alza dalla barella, sta benissimo e si toglie il colore e la polvere da addosso le ultime due domande per i musulmani vi prego perché nella sura 5 Allah dà la terra santa agli ebrei? per chi non fosse esperto di sura 5 Allah non si capisce niente quando parla aprire i tafsir e siamo intorno al 20-25 più o meno i versetti sono quelli e lì si capisce bene cosa sia successo in inglese e Allah dà Allah ha dato la terra santa agli ebrei ma soprattutto ultima perché Allah nel Corano chiama agli ebrei i giudei? Allah nel Corano non chiama agli ebrei e i cristiani gli ebrei e i cristiani ma li chiama i giudei e i nazareni oppure la gente della scrittura come per dire le persone della Bibbia i cristiani li chiama nazareni come se provenissero tutti da Nazareth perché Allah chiama agli ebrei i giudei? e Allah non si sbaglia grazie mille ciao a presto